buonasera se vi state chiedendo se l'idea di questo video mi è arrivata dalla faccenda carini mamma li d'orchio e imanne iman calif sì mi è arrivata proprio da questa faccenda che ce volete fa io quando posso dare delle capre agli occidentali purtroppo sono nata in occidente è vero purtroppo sono sfigata non sono assolutamente patriottica ma non lo sarei nemmeno se fossi nata ad oriente io non sono proprio di carattere patriottico non contemplo le frontiere dal mio punto di vista siamo tutti esseri umani cittadini del mondo quindi non contemplo frontiere non contemplo generi di sorta non contemplo comportamenti dettati da un qualunque dio a tkatsum che avete non perché mi comporti male ma perché seguo la mia coscienza e non delle cose scritte duemila tremila cinquemila ottocento anni fa che sono delle merite boiate mi fanno ridere quelli che dicono che esiste satana e non si rendono conto che il satana o sceitan o satan o qualsiasi altro nemico oscuro delle varie religioni conosciute non esiste ma loro satana ce l'hanno dentro sono talmente cattivi merde e ignoranti da avercelo proprio come animo satana e quindi non ha neanche senso parlarne ma la cosa che è più preoccupante non è tanto che siano cattivi la razza umana è cattiva a prescindere la razza umana non è buona chiediamoci perché gli alieni non ci cacano la razza umana di per sé è cattiva è ipocrita opportunista razzista quando può scaricare le proprie frustrazioni su battaglie ideologiche inutili stupide e cattive lo fa ma questo è un canale di paranormale e quindi in qualche modo io il paranormale ce lo devo infilare a prescindere dai satanini quelli non esistono quindi non sono paranormali la cattivere della gente invece esiste ma anche quella non è paranormale e quindi tralasciando il discorso box tralasciando il discorso carini che è stata penosa dal mio punto di vista come lo era già stata peraltro nel 2022 quindi lassamo proprio perde e tralasciando il discorso diretto su iman calif che adesso non c'entra assolutamente nulla c'entra invece il suo attributo x y che luminari della scienza peraltro non biologica e non genetica ma filosofi dottori di quarto giaro della mutua pseudo persone che si dichiarano essere studiose di non si sa bene cosa o laureate in non si sa bene cosa ma vi voglio portare questa sera una storia o meglio un video che vi insegna in questo caso e posso dirlo con orgoglio sia un ramo teologico epico mitologico quindi storia storia tra i banchi di scuola ricordo ancora il primo giorno a scuola le mie matite e i pennarelli blu ma un pensiero assopito si fa avanti e quel libro che mannaggia la puttana non leggi tu storia e biogenetica cercando di farvelo però il più semplice possibile in modo che chi non abbia nozioni in merito a nomenclature come estrogeni androgeni dna e quant'altro riesca a comprendere lo stesso ciò che sto per raccontarvi partiamo dalla storia mitologico epica a le religioni antiche gli antichi culti e gli antichi miti le antiche leggende le antiche favole chiamatele come le volete sugli antichi dei e sulle antiche gesta degli eroi dall'egitto ai sumeri ai greci ai babilonesi e quant'altro e stiamo parlando di mediterraneo eh quindi non stiamo parlando di oriente che comunque ha già una cultura differente è molto più aperta ve lo posso garantire rispetto all'occidente ma stiamo parlando del nostro bacino della nostra pozzanghera di mare in annau in annau mediterraneu i popoli antichi già avevano intuito qualcosa anche se non era completamente ciò che è la realtà erano comunque più avanti dell'occidente moderno non dico di noi perché io non ne faccio parte in questo contesto e per fortuna molti altri non ne fanno parte le antiche religioni pagane sapevano bene che la sessualità della razza umana non era divisa solo in due solo che non avendo una cultura scientifica e biogenetica come abbiamo noi oggi la suddivideva in tre parlo di biologia sessuale del sesso non parlo di etica di genere anche perché il genere non esiste il genere maschio e femmina è una congettura prettamente sociale che è entrata a far parte della mentalità mondiale allo scopo di dare dei ruoli che un tempo non c'erano ma la sessualità è diversa come dicevo prima gli antichi ne consideravano tre vi ho già raccontato di un'entità elevata chiamata ninma ninma che era una dea madre della terra pre-sumera o comunque intorno alla prima era sumera nel suo mito crea tre diverse razze sessuali che poi vengono ulteriormente suddivise in quattro perché i sumeri sumeritano eh di essere messi sul podio avevano capito quasi tutto non avendo gli strumenti adatti per capirlo pensate che geni che erano suddivisa poi in quattro dal nuovo e più moderno mito nel quale enki ordinava a nin tu di suddividere le persone gli esseri che aveva creato ninma poi ribattezzata anche nin tu anche se in realtà sono due divinità differenti e enki dava l'ordine a nin tu di classificarli suddividendoli per sesso così che nin tu creò il sesso maschile il sesso femminile il sesso di coloro che erano androgeni e quindi non avevano alcun sesso e il sesso di coloro che non potevano procreare vero non è così nella genetica biochimica biologica scusate ma se consideriamo che questi ragionamenti e questi miti sono nati dai sumeri oltre cinquemila anni fa erano molto più vicini alla realtà di noi oggi che consideriamo uomo donna donna uomo in una partita ping pong che non esiste ci arrivo dopo però alla genetica mo parliamo ancora un po' di storia ce ne andiamo dalla sumeria arriviamo un po' più su e ci fermiamo a babilonia i babilonesi avevano nuovamente il concetto delle tre sessualità e anzi la terza sessualità quella che non era né uomo né donna era la prescelta e l'unica che potesse fare da sacerdozio alla dea inanna barra ishtar perché considerata la componente perfetta del tau maschile del tau femminile ovvero dell'insieme l'essere androgino che per i babilonesi era l'essere perfetto prendiamo la barchetta e approdiamo in grecia peraltro poi riportato anche a roma quindi anche noi un tempo come italiani ancora non italioti avevamo questo culto in grecia parte da zeus a roma in italia nell'impero romano partiva da giove giove alias zeus e per cui ammazza ammazza la stessa razza quando zeus decide di creare gli uomini crea una schiera di androgeni persone completamente assessuate né uomo né donna e dall'altra parte un uomo e donna insieme poi litigandoci ora non vi sto raccontare tutto il mito greco decide di scinderli e li divide in due da lì poi nasce anche il mito del cercare la nostra mela esatta la nostra metà della mela quindi anima giumella perché era parte di noi nei tempi ancestrali in cui zeus creò l'essere umano e cosa fece dividendo l'essere uomo donna unificato nacquero uomini e donne a livello sessuale quindi di estetica sessuale di genetica interiore dividendo in due l'androgeno assessuato diede un po' a cazzum un po' con le fialette come nei meme tot donna e una spruzzata di maschio tot uomo e una spruzzata di donna ma qualche volta la spruzzata veniva un po' più forte in un modo un po' più forte nell'altro e quindi si avevano personaggi poi mitologici come giacinto come atalanta come ippolita e via dicendo ero ma addirittura poi l'essere perfetto in assoluto era la seconda moglie di nerone ovvero ermafrodito essere perfetto perché aveva entrambe le sessualità adesso entro però nella genetica biologica e qua la partita si fa dura e solo i duri possono continuare a giocare in genetica nelle razze animali esistono sei sei sessualità nella razza umana che comunque come a vuote vuoti sempre semi bestia e sto offendendo le bestie ce ne sono cinque ne manca solo una ma anche noi cinque le abbiamo come quelle degli animali la sesta l'hanno solo alcune tipologie di animale c'è la sessualità completamente maschile l'uomo c'è la sessualità completamente femminile la donna c'è la sessualità con una piccola percentuale in più di maschilità come nel caso di mann tanto per tornare all'argomento iniziale e c'è la sessualità con una piccola parte in più di donna sul genoma maschile che sono praticamente una stessa cosa ma una sul maschio e una sulla femmine vengono considerate due sessualità separate e poi c'è l'essere completo l'ermafrodito puro che ha metà genomi maschili e metà esatta genomi femminili tanto da avere anche due apparati riproduttivi io parlo dell'ermafrodito perfetto due apparati riproduttivi uno maschile e uno femminile entrambi funzionanti tra l'altro sul discorso dell'ermafroditismo ci sarebbe da aprire anche un nuovo processo di Norimberga ma non contro i delinquenti di guerra contro i delinquenti genitoriali che hanno fatto passare le pene dell'inferno ai loro figli da anni in memory soprattutto in occidente perché quando qualcuno di quei bambini per mentalità ottusa occidentale nasceva con i due attributi lo facevano operare considerandolo quasi uno scherzo della natura queste operazioni poi non andavano mai a buon fine perché veniva deturpata la loro natura in fasce e crescendo avevano tanti di quei problemi e hanno tutt'oggi perché succede ancora adesso questo scempio hanno una serie di problemi fisici e psicologici che la metà basta qualche qualcuno potrebbe sostenere che i problemi psicologici li avrebbero anche rimanendo ermafroditi perché nella nostra società il problema è proprio la nostra società non è un problema che una persona nasca ermafrodite il problema è la cultura mentale di questa società di merda che considera strano e diverso l'ermafrodite nel mondo la quantità che comprende lasciando perdere l'ermafroditismo lasciando perdere l'uomo intero e la donna intera raccoglie l'1,7% della popolazione mondiale questo significa che l'1,7% della popolazione mondiale contempla donne che hanno anche il genoma Y e uomini che hanno anche il genoma XX molti di loro nemmeno lo sanno e nemmeno lo sapranno mai e vivono la loro vita sereni tranquilli perché la sessualità non ha nulla a che vedere né con il gusto personale di chi ti può piacere o non piacere di chi ti può garbare o non garbare e non ha nemmeno nulla a che vedere con la potenza e la prestanza fisica perché che l'uomo è più forte della donna parliamone bisogna vedere che uomo e che donna non è così come la stereotip la stereotipizzazione vuole farci credere e quindi tornando al discorso del genere il genere gender non gender trasgender eterogender homogender non esiste è una discriminazione su divisione umana sociale ce la siamo inventata la sessualità fisica è un altro discorso ma il genere ce lo siamo prettamente inventato come regola sociale negli animali il sesso è a sei ce n'è uno in più non in tutte le razze ma ci sono alcune razze animali che hanno un'altra sessualità ancora una sessualità che contempla per una parte della loro vita l'essere maschi e poi divenire femmine è il caso ad esempio dell'orata l'orata il pesce che vi piace tanto fatto al fordo io piuttosto che mangiare del pesce e muoro del fame ma l'orata nasce sempre maschio i primi due anni di vita è maschio quando fa il compleanno dei due anni gli tolgono i pantaloncini e gli danno la gonnellina rosa perché si trasforma in femmina femmina a tutti gli effetti capace di fare uova e procreare per cui per poter inseminare le sue uova una femmina deve avere più di due anni e deve accoppiarsi con un maschio che deve avere meno di due anni un'orata maschio anziano non esiste un'orata femmina bambina non esiste stiamo parlando di un pesce il rospo lo conoscete tutti c'era un bel principe in quel brutto rospo un incantesimo lo costringeva ad essere rospo e lui piangeva il principe rospo è una delle fiabe sonore e antiche il rospo tutti i rospi nasce con l'attributo maschile e con un piccolissimo apparato femminile è un apparato di salvaguardia ci sono rospi maschi e rospi femmine che nascono maschi e nascono femmine ma i maschi hanno anche un apparatino femminile in un angolo la ruota di scorta per due motivi i loro movimenti i loro balzi e il loro modo di saltare li fa rischiare molto spesso di perdere le palle inoltre esiste in natura un batterio che tende se preso ovviamente dal rospo a masticargliele proprio le palle e quindi gliele distrugge ma mamma natura che tutto vede e tutto sa gli ha dato la ruota di scorta quindi i rospi che perdono le palle per i loro motivi non perché glieli fate cadere voi quando gli stronzate non tutti ovviamente eh lì mi riferivo solo a quelli che le stronzate le dicono ma quando i rospi perdono le palle il loro apparato di scorta si va a innescare tipo robocop inizia a crescere e diventa un apparato femminile totale in grado di fare figli quindi si trasformano per esigenza d'accoppiamento da maschi che ormai avevano perso le palle a femmine complete di rospo perché il rospo si accoppia con la rospa non si accoppia con la rana eh no perché tanti pensano giustamente parliamo di ignoranza buttiamocela tanti pensano che la rana sia il maschio del rospo non commento oltre su questo argomento tornando al discorso ora iniziale quindi ritirando fuori anche Iman Calif giusto perché c'entra con i discorsi di questo periodo c'è da dire che la sua condizione è la condizione normale di 160 milioni di persone sul pianeta terra le regole imposte dalla congregazione olimpica erano state rivedute e cancellate nel 2000 il comitato olimpico aveva cancellato completamente il criterio cromosomico quindi non ci si poteva più basare sui cromosomi per squalificare o per far entrare un atleta nel 2024 anni fa perché perché giustamente il comitato olimpionico aveva decretato che se uno nasceva donna ed era donna fisicamente a tutti gli effetti gareggiava con le donne se uno nasceva uomo a tutti gli effetti gareggiava con gli uomini certo non si parla di operazioni certo non si parla di trasgender magari quello è un discorso a parte io non ve lo so dire ma a livello di leggi olimpioniche nel 2000 era stato abolito il controllo cromosomico pochi anni prima tra l'altro una delle più grandi atlete del mondo di ginnastica libera di di corsa non mi viene il termine non sono brava negli sport che si chiamava Maria José Martinez Pati Patigno se non sbaglio venne è squalificata nel 1985 quindi 15 anni prima che il comitato olimpico cancellasse il criterio cromosomico dalle sue leggi proprio perché a causa del criterio cromosomico era stata rilevata la stessa condizione di Imani in questo momento lei peraltro non ne sapeva assolutamente nulla di questa cosa lei era nata cresciuta vissuta come una donna a tutti gli effetti convinta di essere donna con gusti femminili e rimase scioccata venne bandita dalle squadre di atletica leggera ecco atletica leggera era o mamma venuta in mente persino il fidanzato la lasciò viva l'ignoranza però stiamo parlando del 1985 dove ancora le capre pullulavano un po' in tutto il mondo ad oggi invece le capre oggettivamente mi stanno un pochettino sullo stomaco perché ci sono i mezzi per potersi informare e ce ne sono tanti per poter studiare se non vuoi studiare un argomento non ne parlare stai zitto fai più bella figura ci vollero quasi dieci anni perché riuscisse a vincere la causa e essere reintegrata nell'atletica leggera ma un atleta che sta fermo per dieci anni non avrà mai le stesse prestazioni che poteva avere dieci anni prima e cinque anni ancora dopo anche a seguito di moltissimi altri atleti che portavano quelle caratteristiche perché ripeto nel mondo siamo sono 160 milioni le persone che hanno queste caratteristiche è una caratteristica normale prettamente umana non c'è niente di anormale si chiama sindrome da ipersensibilità agli androgeni o nel caso opposto di ipersensibilità agli estrogeni tutto lì ma è una condizione fisica normale e nel 2000 torno a ripetere era stato abolito questo criterio cromosomico quindi non può essere una punta di avval di avvallamento per poter escludere una persona dai giochi olimpici di tutti quelli che hanno tanto criticato questa questione dell'XXXXXY ABZ4 affondato io vorrei farglielo tanto il test cromosomico a scoprire quanti di loro sono convinti di essere femmine o masculi e poi si scoprono che sono a metà e metà e che fai? ti sputi in faccia da solo sputi in aria e poi resti così aspettando che ti arrivi perché è l'unica cosa che puoi fare comunque questa è la spiegazione il più terra terra possibile che sono riuscito a fare sulla questione dei cinque sessi umani dei sei sessi animali e di quanto persino il paganesimo antico se ne era accorto ma i coglionazzi e lo dico col cuore se qualcuno che mi segue non gli va bene quello che dico me può anche togliere dal seguire mi può bloccare non mi può più parlare ma chi se ne fotte perché o impari a fare due ricerche a studiartele le cose o è inutile che dai aria alla bocca tanto per far sciacquettare le orecchie persino i pagani anche se loro ne avevano tre massimo quattro ma ripeto i pagani cinquemila anni fa non avevano lo studio i mezzi le tecnologie che abbiamo oggi oggi in genetica genetica vera non studiata da un filosofo e poi riportata sul web si sa che l'1,7% della popolazione mondiale è iperandrogenista ha l'iperandrogenismo in un verso o nell'altro sa che esiste la sessualità ermafrodita pura e che esiste anche il sesso maschile e il sesso femminile per quanto riguarda il genere non esiste il genere è solamente un'invenzione umana per poter dare dato che non ne diamo abbastanza un'ulteriore regola e suddivisione alla razza umana ma il genere non c'è è un'invenzione sociale ricordo una frase me l'ero segnata ma non so me sa che non la ritrovo che era bellissima e la pronunciava addirittura Sigmund Freud che Freud era già ossessionato di suo da generi e non generi per lui tutto era invidia del pene a prescindere ma non la ritrovo più comunque mi ero segnata una frase ad effetto il genere non esiste è solamente un'invenzione umana e socialmente costruita Sigmund Freud il papà della psicanalisi colui che era convinto che tutti gli invidiassero il pisello non si sa perché si vede che c'era bello detto questo vi saluto che volete essere d'accordo che non volete essere d'accordo che volete dire la vostra qua sono nei commenti quando volete grazie